Monti all'operazione Credibilità, il premier italiano in Europa per recuperare una fiducia peraltro già accordata dagli Stati Uniti. Bufera sui partiti, l'inchiesta ENAV Finmeccanica potrebbe travolgere partiti ed imprenditori. L'Egitto precipita nel caos, Medio Oriente in fiamme e continuano gli scontri di piazza, anche la Siria soffre la repressione. Omicidio Poggi, nuova udienza, nel processo d'appello l'accusa ribadisce le richieste a carico di Alberto Stasi. La Marina Militare aiuta i bambini, presentato il calendario 2012 in collaborazione con la Fondazione Rava. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli. Il premier Monti è a Bruxelles per la prima serie di incontri europei. Intanto in Italia si cercano risorse per la crescita. Il servizio. L'agenda di Mario Monti è scandita dagli incontri di Bruxelles dopo aver lasciato Palazzo Chigi con il primo provvedimento del suo governo riguardante Roma Capitale scatenando le ire della Lega e l'applauso del sindaco di Roma. Il viaggio europeo e l'incontro con i maggiorenti continentali Barroso e Varompui sarà seguito giovedì da una trasferta a Strasburgo, meeting con Merkel e Sarkozy, fino a giungere all'Ecofin del 29 novembre. Monti parte valutando le possibilità di recuperare la credibilità perduta. Nelle ultime ore gli esperti stanno scavando per verificare se da qualche parte sia possibile raccogliere risorse. Questa caccia al tesoro potrebbe trovare a prodo nell'isola del Mattone, infatti tra ICI, IMU e rivalutazione degli estimi si potrebbe ricavare non poco. Tra l'altro sarebbe agli occhi degli scettici un segnale di prelievo sulla proprietà fornendo fiato alle imprese di conseguenze ai lavoratori con sgravi IRPEF e IRAP. Da un calcolo apparso oggi su Repubblica.it un tesoretto finora escluso da calcoli e previsioni vale 60 miliardi ed è nascosto negli oltre 33 milioni di unità abitative esistenti in Italia, di cui 30 intestate a persone fisiche. Comunque il governo Monti ha già incassato l'appoggio della Casa Bianca dopo un cordiale colloquio telefonico con Obama. Anche il vicepresidente della Commissione europea REM si è detto fiducioso sulla capacità dell'Italia di superare l'attuale perdita di fiducia dei mercati. Sono indicatori di un cambiato clima internazionale attorno al nostro paese, però contrassegnato da posizioni d'attesa da cui potrebbero scaturire anche sbocchi non tanto positivi per la nostra già traballante economia. A tutta l'aria di una nuova tangentopoli l'inchiesta che riguarda ENAV e Finmeccanica. Ci sono gole profonde che stanno collaborando con i magistrati. Vediamo. Gli atti dell'inchiesta ENAV portano ad una svolta dei verbali e dei testimoni. Sembrerebbe che tutti i partiti partecipassero alla spartizione delle nomine in ENAV e Finmeccanica e Verbali di interrogatorio. Gli altri atti dell'inchiesta sono le rivelazioni di chi, dopo essere finito in carcere, ha deciso di collaborare con la magistratura. Dalle carte emerge che Udc, AN e Forza Italia sarebbero i partiti più coinvolti. Secondo l'accusa, gli imprenditori che volevano ottenere i lavori consegnavano i soldi ai manager e questi li giravano i politici. Ciò che l'inchiesta racconta è però molto di più, i finanziamenti non dichiarati, le società segnalate dai parlamentari agevolate per ottenere l'assegnazione delle commesse, i ministri che avrebbero ottenuto il via libera nell'assegnare i posti di dirigenza. I principali nomi citati sono quelli del leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini e Lorenzo Cesa, l'ex titolare dei trasporti, Altero Matteoli. Il parlamentare ex Udc, ora del PD Marco Follini, il sindaco di Roma Alemanno e gli ex ministri Gasparri e Larussa. Ma soprattutto i vertici di Finmeccanica e Selex, Pier Francesco Guarguaglini e la moglie Marina Grossi che pare fossero pienamente consapevoli del sistema. Medio Oriente in fiamme, in Egitto la situazione sta precipitando, pesante anche la repressione in Siria. Vediamo l'insieme di queste situazioni nel servizio che segue. Medio Oriente senza pace e le notizie molto gravi che arrivano dall'Egitto si sommano a quelle non meno preoccupanti provenienti dalla Siria. Al Cairo, come in altre città del paese, la violenza continua e le stime che superavano i 40 morti sono suscettibili di pesanti aggiornamenti, mentre il governo che fa da schermo al potere militare si sta defilando e i fratelli musulmani si dissociano dai manifestanti. Il cuore della protesta rimane appiazzata a Crir, il luogo simbolo della rivolta che lo scorso febbraio defenestrò Mubarak. Da allora si è instaurata una giunta militare e i generali non stanno mantenendo la parola dopo aver promesso lo svolgimento di regolari elezioni. La consultazione democratica si dovrebbe tenere tra pochi giorni e la massa di egiziani che protesta non si fida dei militari e chiede l'immediato trasferimento dei poteri ed un esecutivo composto da civili. Il rischio forte, vista la dura repressione, è che le elezioni subiscano un rinvio. In Siria, nazione collocata in uno scacchiere fortemente a rischio, il regime di Bashar al-Assad continua a minacciare terremoti nel caso si pensasse ad un intervento armato da parte di forze straniere. Il dato è che la polizia e l'esercito sparano ad alzo zero ogni volta che vedono un piccolo assembramento. La determinazione di Assad è nota e, come tutti i dittatori, si dichiara pronto a morire e a resistere a qualsiasi tipo di sanzione proveniente dalla comunità internazionale. I confini siriani scottano e Damasco deve guardarsi dalla Turchia pronta ad aiutare se mai si formassero le forze di opposizione. Tra l'altro Ankara lamenta violenze subite dai suoi cittadini in territorio siriano. L'ultimo episodio riguarda due pullman turchi diventati bersaglio mentre si dirigevano alla Mecca. Omicidio Poggi al Tribunale di Milano sono in corso le udienze del processo d'appello contro Alberto Stasi, assolto in prima istanza per insufficienza di prove. Seconda udienza oggi al Tribunale di Milano per Alberto Stasi, imputato in appello per l'omicidio con l'aggravante della crudeltà della sua fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Il sostituto procuratore generale Laura Barbaini ha chiesto di condannare a 30 anni di carcere il ragazzo che in primo grado era stato assolto. Rimane fermo che non c'è il movente, quest'uno dei passaggi trapelati dalla requisitoria del sostituto procuratore generale al processo che si è svolto a porte chiuse davanti ai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano. Alberto Stasi è arrivato intorno alle 9.30 al Tribunale a bordo di una BMW grigia con altre tre persone in aula preso appunti. Il procuratore nel fare la sua ricostruzione utilizzando anche le immagini della villetta di Via Pascoli, luogo dell'omicidio della 26enne, ha collocato il delitto tra le 9.12 ora in cui fu disinserito l'allarme nella casa dei Poggi e le 9.35 ora in cui Stasi accese il suo computer portatile. Ma il giallo principale riguarda un sms di cui il procuratore ha parlato in conclusione della sua requisitoria. Alberto Stasi l'avrebbe mandato a un amico a Loano nella notte tra l'11 e il 12 agosto. È stato quindi insinuato il dubbio a proposito di quale potesse essere il contenuto di questo messaggio. La Barbaini ha chiesto poi la rinnovazione del dibattimento su due punti, l'essicabilità del sangue nella villetta di Garlasco e i primi due gradini della scala che porta alla taverna. Il 24 e il 25 novembre prossimo sarà la volta dei legali della difesa, il professor Angelo Giarda e i fratelli Giulio e Giuseppe Colli. L'udienza del 6 dicembre sarà dedicata alla Camera di Consiglio per decidere se mettere la sentenza nei confronti dell'unico imputato o riaprire il dibattimento. A Bergamo, inaugurata nel cortile del Palazzo Provinciale, la mostra verso l'Expo del Consumatore. 32 pannelli che descrivono la piramide alimentare, i prodotti lombardi, il gioco dell'oca agroalimentare e un calendario con gli alimenti. Vediamo il servizio. Si tratta di un progetto per far sì che questo grande evento che ci sarà nel 2015 sia un evento che interessi i cittadini, vede partecipi i cittadini con l'obiettivo di avvicinarsi a un'alimentazione sana, stagionale, salubre e anche di far ripartire con questo evento l'economia partendo dal lavoro dell'agricoltura, partendo dai fondamentali così importanti soprattutto in questo momento in cui i problemi ci vengono dalla finanza di carta. L'obiettivo, come si è detto, è quello di aiutare a far crescere nel cittadino, in questo caso bergamasco, ma l'iniziativa riguarda tutta la regione, una cultura diversa proprio sull'alimentazione. Noi abbiamo un sacco di prodotti, tra l'altro a chilometro zero come si dice, quindi anche con dei costi più bassi, ma ottimi e bisogna abituarsi a consumarli. È stato presentato a Milano il calendario 2012 della Marina Militare Italiana, un'iniziativa essenzialmente improntata a finalità sociali e di aiuto ai bambini. Presentato a Milano il calendario 2012 della Marina Militare Italiana, un'iniziativa essenzialmente improntata sul piano sociale e strettamente legata alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava e dedicata all'attività di adozione a distanza. La Fondazione Francesca Rava ha collaborato con la Marina Militare a stretto fianco presso l'ospedale San Damiani in Haiti durante i mesi terribili del terremoto. È stato un lavoro forte e duro che ci ha reso orgogliosi di essere italiani e che è continuato con questo calendario, uno strumento che aiuta con due euro il progetto Scuole di Strada, un progetto che dà un futuro concreto di aiuto e di speranza a questi bambini, purtroppo vittime di questa tragedia. Il calendario 2012 della Marina Militare sviluppa il tema dell'innovazione dello strumento aeronavale. Il messaggio invece è dedicato alla squadra navale, che è il cuore pulsante della Forza Armata, quindi tutte navi tecnologicamente molto avanzate, tanto che il calendario si chiama la rotta per il futuro, cioè si sono riportate le navi che per i prossimi 30 anni rappresenteranno il nervo della Forza Armata. È possibile acquistare il calendario abbinato al quotidiano La Stampa o sul sito www.marinamilitarestore.it. I proventi saranno devoluti in progetti in favore dei bambini haitiani di Porro Prince. Passiamo adesso ai servizi dedicati allo spettacolo e alla cultura. Punto di fusione ha proposto uno spettacolo teatrale dedicato a discipline inedite e sorprendenti. Donna di cuore era abbinato all'arte eclettica e sensuale della body painter Valeria Finazzi. Il servizio. Colori, disegni, arte sui corpi nudi. Chi volesse provare a trasformarsi visivamente in una vera e propria opera d'arte può recarsi al Teatro Area Pergolesi di Milano. Ha infatti preso il via ad ottobre Vogliamo Vivere Punto di fusione, una rassegna d'arte e teatro realizzata dall'associazione Piano in Bilico che mostra le contaminazioni tra diverse discipline e permette agli spettatori di sperimentare l'arte del body painting. I diversi spettacoli in scena permettono alle compagnie teatrali partecipanti di interagire con musica, danza, poesia, fotografia, video arte, tango, body painting, fumetto, moda e tanto altro ancora. Siamo in scena con Donna di Cuori della compagnia Ben Andanti, regia di Alberto Oliva, in scena Ivana Cravero e si fonde con il body painting di Valeria Finazzi. Ogni spettacolo praticamente è abbinato a una di queste arti e la loro fusione può avvenire in tre modi, a loro discrezione, a discrezione della compagnia e dell'artista che abbiamo scelto. in tre modi e cioè semplicemente l'artista può creare delle opere ispirate alla tematica dello spettacolo e esporle in questo meraviglioso spazio che è Aria Pergolesi che ci ospita oppure andare a integrare la scenografia dello spettacolo oppure la terza fusione, la più auspicata da noi che rende più particolare tutta l'operazione è proprio la creazione dell'artista prende vita durante lo spettacolo. È stata presentata a Milano la mostra Pixar 25 anni di animazione in programma al PAC in anteprima europea dal 23 novembre al 14 febbraio 2012. La mostra arriva dopo un tour internazionale che l'ha vista partire dal MoMA di New York per poi toccare tappe in tutto il mondo dall'Australia all'estremo oriente. Dopo il MoMA a New York e un tour internazionale dall'Australia all'estremo oriente, la mostra Pixar 25 anni di animazione arriva in Europa e in anteprima al Padiglione d'arte contemporanea di Milano dal 23 novembre al 14 febbraio. Dal primo lungometraggio dedicato a Luxo Junior ai grandi capolavori come Monster & Co, Toy Story, Ratatouille, Sino a Cars 2 e un'anticipazione di Brave in uscita nel 2012. Un percorso costruito con oltre 700 opere, un viaggio attraverso la creatività e la cultura digitale come linguaggio innovativo applicato all'animazione e al cinema. Sono 1.400 metri di immersione nel dietro le quinte della Pixar Animation Studios, ma soprattutto un'immersione alla scoperta di come loro creano quelle opere straordinarie che sono i loro film che fanno parte ormai dell'immaginario di tutti. Quindi disegni, maquette, color script, proiezioni, installazioni. È proprio come dire, è veramente un andare dentro gli studio sui scoprire come creano, come elaborano, da cosa partono e come arrivano al prodotto finale. Con questo è tutto, grazie e arrivederci. Grazie.